Proviamo insieme questo mini grill che è virale sul web. Ho ordinato un po' di tempo fa su Amazon, ha impiegato un sacco ad arrivare, ma appena l'ho ricevuto sono corsa al supermercato a fare rifornimento dei prodotti che mi servono per testarlo. E una volta rientrata a casa ho provato a assemblare il mio McMuffin. Ho dovuto far rosolare il bacon e poi aggiungere tutti gli altri ingredienti, il pane, il formaggio e per finire l'uovo nel reparto apposito del grill. E dopo 5 minuti di cottura il risultato finale è questo.